Carta canta? Non proprio, almeno stando ai verbali, del vertice di luglio della Federal Reserve. All'interno delle famose minute gli investitori cercavano indizi sulla data d'inizio del rallentamento nel programma di stimoli economici. La mossa, che ha già scatenato il panico sui mercati, in particolare quelli asiatici, è attesa per la seconda metà dell'anno, ma del quando esattamente nei documenti non vi è traccia, dato che i membri del comitato si dicono divisi sui segnali di ripresa. Per alcuni è subito, per altri è più avanti. Ci sono state delle discussioni sul fatto che anche in caso di rallentamento potrebbero abbassare la soglia del tasso di disoccupazione, possibilmente al 6% o persino al 5,5%, per segnalare che il percorso della politica monetaria potrebbe rimanere accomodante ancora più a lungo. Insomma, gli strumenti sono tanti. Il riferimento è alla soglia di disoccupazione, attualmente al 7%, che la Fed ha fissato come obiettivo prima di ricominciare ad alzare i tassi di interesse. Il programma di acquisto di bond da 85 miliardi di dollari al mese, invece, terminerà quasi sicuramente nel 2014.